se avete un neo che vi preoccupa e quindi un neo che può essere asimmetrico con i bordi regolari col colore disomogeneo con le dimensioni che crescono e crescono rapidamente potete consultare il medico di famiglia potete consultare uno specialista o rivolgervi alle farmacie comunali che tramite i loro farmacisti acquisiranno con un sistema software dedicato all'immagine che sarà girato a uno specialista di riferimento. Viviamo in una zona che è ad alto rischio ad alta incidenza di tumori della pelle abbiamo un'incidenza percentuale che va da 3 a 5 volte quella della media nazionale viviamo sul mare abbiamo tutti l'abitudine di stare troppo esposti al sole è il momento di farsi controllare le farmacie comunali ci aspettano per aiutarvi in questa iniziativa. Grazie a tutti